E' in corso una settimana di intenso maltempo sulla nostra penisola e le premesse già non sono buone, infatti vedete lunedì come tutta l'Italia sia avvolta da questo tappeto di nubi con piogge e acquazioni anche piuttosto intensi, in particolare sono risultati molto violenti sulla Sardegna, vedete qui i temporali che hanno scaricato oltre 200 mm sull'isola con situazioni di criticità, frane e smoltamenti. Per quanto riguarda i prossimi giorni avremo ancora l'Italia in balia di questo vortice repressionario con fenomeni che risulteranno più intensi specialmente al nord sui settori terrenici e ancora una volta sulla Sardegna risulteranno alternati a schiarite invece sui settori adriatici e su quelli ionici. Per quanto riguarda le temperature queste saranno inizialmente ancora abbastanza miti ma poi caleranno col passare dei giorni per via della discesa di queste correnti di aria più fredda dall'Artico che dilageranno fin verso il Mediterraneo entro la sera di mercoledì. Queste correnti poi avranno anche il merito di andare a rivigorire ulteriormente la bassa pressione presente sull'Italia che nel corso di giovedì vedete come determinerà ancora pioggia un po' su tutte le nostre regioni in particolare sui settori terrenici e al nord e inoltre la quota neve si abbasserà fin verso i 400-600 metri sulla Piemonte e sull'Alta Lombardia. Per quanto riguarda il weekend poi anche in questo caso le premesse non sono buone come infatti avevamo anticipato nei precedenti appuntamenti l'Italia continuerà a rimanere sede di basse pressioni e anche durante il fine settimana potremo avere tempo molto instabile e anche piuttosto freddo su gran parte delle nostre regioni. Ma per tutti i dettagli vi consiglio di rimanere aggiornati su trebimeteo.com